E ragazzi, io sono Ferinichi e io sono Steph e quest'oggi assisteremo a dei fail nel mondo reale davvero, davvero, davvero imbarazzanti Cioè, alcuni io non ci volevo credere ma purtroppo sono reali, quindi preparatevi a qualcosa che, se che ne fa addirittura soffrire C'è ti sono talmente un fail che, esatto, capito, come è potuto succedere? Partiamo col primo, vai, fai vedere Sei pronto? Teniamoci le mani perché questo è un momento di me che è Io lo conosco già, guarda Dovevo vedere bene Tu immaginati che questo qua, questo signore comunque suppongo dal braccio Si è anche reso conto dell'errore e ha attivato il sensore di movimento di lato Tu pensa se vai davanti e ti fa la noccia Magari sei al cinema perché mi sembrano chiaramente di bagni pubblici Tipo al cinema tu vai per lavarti le mani e finisci bagnato tu e devi tornare in sala così Pensa cosa Lasciamo perdere Io li distruggerei in cinema Ma guarda Andiamo avanti che feria di esagerata The impossible quiz Allora questo qua è praticamente un quiz Dice che devono risolvere Cioè devi azzeccare tutte le risposte Sta dicendo Giustamente Però poi guarda cosa dice Hai risposto a tutte le 18 domande correttamente ma purtroppo devi rispondere a 19 di 18 correttamente per passare questo quiz Quindi devi azzeccare 19 quando ci sono 18 risposte E mi piace il commento sotto Welcome to my life Forse è la cosa migliore di questa immagine perché è stata fantastica Bellissimo Ok scendi Fede Ok questo è molto triste Non faceva neanche Quello dopo pure Come fai? Cioè avevi una cosa da fare dovevi fare un tombino che servisse a non fare allagare la zona Esatto Come lo hai rialzato in modo tale che non riesca a non fare allagare la zona Questa faceva male Questa è detto di quelle che era fastidio tipo le piastrelle storte Quelle ero bellissime Queste sono di quelle che fanno male Vai 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 Allora Queste sono quelle cose che una persona fa e non si rende conto Però io dico No Ti allontani 5 metri dal negozio E te ne accorgi che sembrano quello che sembra Te ne accorgi Non è possibile Non puoi non accorgi Te ne accorgi Se i negozi le fai magari Scusi non è che avrebbero una felpa rosa Sì li ha Guarda E lì ti sbianchi e sbieni E non la comprerai mai Perché sicuramente Cioè ti sembra che abbia comunicato un cliente E quindi pensi che tu sarai il prossimo No è spettacolo No questo è davvero Chiunque l'ha fatto Dove l'ha licenziato Andiamo avanti Questo è terribile Cioè Io non riuscirei a bere Io non riuscirei a bere il te Allora io conosco questi animaletti Che più delle volte sono carini A forma di fiore E tu li metti nella tazza Il te va in infusione E te lo puoi bere Ma Così è terribile Cioè sembra che stia morendo Vai avanti Anche perché ha preso così Stia morendo Vai avanti Stef Guarda questo Ok C'è il lucchetto Ah No aveva una voglia di chiudere Anche i lati Secondo me E quindi ha fatto Dai mettiamolo Sì ma poi che cos'è Probabilmente qualche medicinale Che non si può prendere Ah sì 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 Il ricetto E roba del genere Quindi oltretutto anche molto pericoloso Ma va bene Good job Stai facendo questo lavoro benissimo Poi Qua non so bene Ha un suo senso però eh Dove Trova a dirmi il suo senso Dai È un incrocio tra una paperella e un gatto No E scrive anche la mia Ha un'altra quattro zampe Certo Certo Vai avanti Però è carina Almeno di faccia è carina E vabbè ma che cosa Evolution dice Vai avanti Torni qui a ridere i commenti delle immagini comunque Ok Questo qua Questo l'ha fatto fare Io mi ci gioco Quello che volete Che questo cuscino l'ha fatto fare Se sapessi stampare Ti direi sui cuscini Ti direi Vero Cioè Bellissima Sì però qua dovevi prendere l'immagine da google Stamparla Eh no magari ha voluto fare il suo disegno Però poi non sa dove nord e sud Io spero che sia uno di quei regali Che fai per scherzo Capito Che perché vuoi far arrabbiare qualcuno E lo fai per scherzo Ce ne sono due uguali Secondo me Secondo me Vai avanti Vabbè Secondo me non è fatta posta Non è niente da commentare Allora questa cosa È reale Ed è di tanto tempo fa Sembra Anni novanti Cioè anni No anni venti Anni venti Sì però Lì è 1901 Mi è venuto anni novanta Non so bene perché Sono fuso Comunque Un allarme Antincendio Però per evitare Che qualcuno Suoni l'allarme Antincendio Per scherzo Hanno messo Che quando tu suoni L'allarme Ti incatena Capite bene Che se invece Tu non stai facendo Uno scherzo E c'è il fuoco E rimane Che è un po' Un problema E dice che la chiave Ce l'hanno soltanto I poliziotti E i cosi I pompieri Allora non hanno pensato Molto bene Che comunque erano Tanti anni fa Però Steph Come fai anche solo A pensarla Non lo so Cioè lì comunque Con un manico di scopa Stare lì Se ce l'hai in ufficio Non lo so Davvero Poverina Morirà bruciata No vabbè Questa è felice Ha fatto la foto Basta Io spero che non sia mai Stato utilizzato Realmente Perché è davvero terribile Fammi vedere una Ah Si sono dimenticato Un pezzo No allora qui Qui dici Tutto ok Tutto ok Non c'è nessun problema Però poi Forse per vietare L'accesso all'auto Ma poi comunque Scavalcare il La piccola Eh sì Anche una panda Ci passa Non ha molto senso Cosa hanno pensato Scusate Ma che Aspetta Steph Voglio andare al piano Due Dov'è il piano due Il piano due Fede è semplicissimo Dov'è Eh Dov'è Cioè ti fai tutto il pazzo Avanti e indietro Nel frattempo che trovi il piano A cui tu vuoi arrivare Perché davvero Allora Posso capire che mancano Certi piani Perché magari Hanno accesso Soltanto altre persone Ma perché I piani che ci sono Non sono in ordine Ma non ci sono neanche tutti No guarda Guarda Hai trovato un senso No Cinque Nove Dodici Quindici Ciotto Ventuno Ventiquattro Ventisette Otto Undici Quattordici Ciotte Venti Ventitré Ventisette Sette Dieci Tredici Sedici Cian E la tabellina del tre Messa di così Ma perché si ripetono certi numeri Cioè si ripetono Cioè certe cose ci sono più volte o no No perché poi c'è un sei qui giù Come puoi arrivare al sei Scusate No Steph non ha senso Non provare a dargli un senso Io questa la giustifico Che chiunque l'abbia fatto Era ubriaco E ha messo E appiccicato lì I tatti a casa È gravissimo Andiamo alla prossima Io avrei chiamato subito Il cosa di assistenza comunque Scusa un attimo Allora Quando vuoi sperimentare Un'esperienza di quasi morte Quando scendi le scale Cioè sono dei mobili? Non ho capito se hanno preso degli scaffali O comunque delle mensole E li hanno appiccicate per fare una scala Sinceramente non riesco a capire cosa hanno pensato È anche bellino a livello estetico Ma non sembra molto sicuro Ci cadrebbe inizio molto subito Sì 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 Infatti anche il tipo si sta tenendo Ma sicuramente ci vuole la stessa Ci vuole la stessa Non è una roba salutare Qua si sono dimenticati un dettaglio da poco Alla fine l'Europa No c'è da dire Non è nulla di importante Se tu vai in aereo Tipo soprattutto mi è capitato Non c'è la Sardegna Lo so E quando ci sono le mappe del mondo Non c'è mai la Sardegna E a volte non ho visto neanche la Sicilia È vero Cioè pensate Le isole non esistono totalmente Ma l'Europa intera L'Europa intera ancora Siamo arrivati a un livello successivo Cioè io la Sardegna l'ho anche accettato Che ormai non c'è mai nelle mappe Però l'Europa E dai Allora io dico Capisco o non pensare No 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 io capisco No è voluta questa Io la vorrei troppo alla mia faccia In un autobus con gli occhi così Non la vorresti Questa ti dico che è voluta Rocky Rococo Non so chi tu sia Ma secondo me hai fatto la pubblicità più geniale di questo mondo Assolutamente proprio a mani basse Io mi inchino a te Perché te lo meriti Non lo so Cioè secondo me non è fatta apposta Ma quando te ne rendi conto la devi bloccare Cioè non puoi far andare in un autobus Non so se lui l'ha voluta Cioè se lo farei la preta Tutti gli altri Però guarda Cioè tu adesso noterai che agli occhi così Quando sei in strada ci ridi Ti ricordi il nome E vai a mangiare da lui Perché da dietro suppongo che faccia pure le pizze E te lo ricordi Funziona sta pubblicità Mi piace A me A me non ha convinto A me non ha convinto Vai al prossimo Vai al prossimo Ah ok Che cos'è? Praticamente dovevano coprire i cavi dall'acqua Perché sono dei cavi scoperti E ci hanno messo un ombrellino di carta Secondo loro Poi a parte che fosse un ombrello reale Direi già Ok ci può stare Ma così Questa è la classica soluzione da uomo Perché le donne sono meticolose Sistema tutta a perfezione L'uomo quando non c'ha voglia Arriva a mettervi un ombrellino di carta Per proteggere dei cavi elettrici Cos'è poi una lampada? Sì sembra un faretto Vabbè ma si fa cortocircuito Dai pazienza Non la rigrave Però è comunque abbastanza terribile Ultimissima Prego compriamolo Ti prego Allora Io spero che non sia venduto da nessuna parte nel mondo Perché non si può Non si può Perché? E poi dice chi è che non amerebbe? Sembrare come uno che sta per sparare il proprio cane È bello Ma perché? Ma divertente Però se ci pensi Chi l'ha pensato? Aspetta aspetta Se vai a una festa di Halloween con il tuo cane Senso Fare? Senso Allora A me piace Già ha dei problemi Chi l'ha pensato Chi ha fatto la foto Lei è pure a mezzo soddisfatta Quindi già questi giorni Lui è serio Proprio cattivo Felice di sparare Se poi tu trovi una soluzione per renderlo utile Ti unisci a me lo gruppo Sì a me Voglio stare con l'ora Non devi Non devi Secondo me è divertente La gente in strada ti guarderebbe male Mi farebbe ancora più ridere Ma no Dai che tanto è solo un collare Non è che stai facendo del male al cane scusa Però farebbe ridere la reazione dei passanti in strada Non ho parole Non ho parole E ripeto se vai a una festa di Halloween La stessa Fermiamoci così perché non ne voglio vedere altre di fail e di cose strane Non c'è niente Mi hanno lasciato senza parole Oggi mi hanno totalmente lasciato senza parole Ho visto L'uomo ha una creatività Che alcune volte è fantastica Viene anche sottovalutata secondo me Altre volte va un po' oltre capito Cioè qua c'è il limite e loro vanno qua Che è una roba brutta Comunque ci fermiamo così con questo video Ciao 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 ciao